Devo ringraziare i ragazzi perché l'ultimo aggiornamento di mezzogiorno ci ha dato 250.000 prenotazioni. Bruciati in poche ore in Veneto gli slot aperti agli under 40, il presidente Zaia non ha nascosto oggi la sua soddisfazione, per questo dato che racconta anche di un tam-tam social nell'esibire il posto prenotato. Di adolescenti che con sveglia alla mano hanno dimostrato come questa fosse un'opportunità davvero da non lasciarsi scappare. I ragazzi che a 15-16 anni si sono prenotati a mezzanotte e un quarto, mezzanotte e mezza, mezzanotte e dieci, mezzanotte un minuto e due minuti, c'è stato l'assalto. Quindi i ragazzi stanno dando una prova, come si può dire, di civiltà che è unica. Solo quattro regioni in Italia hanno aperto in modalità liberi tutti. In Veneto dal 24 giugno al 4 agosto sono stati messi a disposizione 700.000 posti in agenda, un numero che si è paragonato alla popolazione target, 1.300.000 fa davvero intravedere la soglia dell'immunità di greggio per il Veneto. L'RT di 0,64 di oggi lo dimostra. La bella notizia è che la nostra incidenza è di 19,4 su 100.000 abitanti. Cioè siamo pienamente, abbondantemente in zona bianca. Il passaggio in zona bianca prevederà anche una nuova ordinanza della regione per definire cosa è consentito fare o meno. Noi l'ordinanza la facciamo. Guardate che è un bello obiettivo, arrivare per primi sulla zona bianca non è proprio da tutti i giorni. Secondo obiettivo, turismo. Covid free da domani la regione apre slot anche per gli operatori turistici. Vi annuncio che da domani a mezzogiorno apriremo le liste vaccinali che vi posti in agenda per gli operatori del turismo. Chi entra, se non trova il proprio codice fiscale, continua la prenotazione e sa che al centro vaccinale firmerà una dichiarazione su un modulo nel quale ci sarà scritto io, Mario Rossi, dichiaro di lavorare presso l'hotel. Per loro domani sono riservati 9.000 posti con l'obiettivo di arrivare fino a 50.000. Di pari passo alla campagna vaccinale ha confermato il progressivo svuotamento degli ospedali dai pazienti Covid. Per la vaccinazione degli adolescenti a breve sarà aperto un tavolo di interlocuzione anche con i pediatri, come confermato dall'assessore Lanzarini. Grazie.